Ancora tensioni davanti all'ufficio immigrazione della Questura di Via Cagni a Milano dove solo settimana scorsa la polizia era intervenuta con dei lacrimogeni per disperdere la folla in coda da ore per le pratiche per richiedere il permesso di soggiorno. Durante la notte tra domenica 29 e lunedì 30 gennaio oltre 350 stranieri si sono radunati davanti alla caserma e la Questura ha predisposto uno specifico servizio di ordine pubblico per regolare l'accesso. Nella mattinata un immigrato si è anche sentito male ed è stato portato in ospedale per via del malore ma nonostante qualche disagio iniziale tutto si è svolto in maniera regolare. Pochi minuti prima delle 7 il numero previsto di stranieri ha infatti fatto accesso alla struttura per la valutazione delle loro istanze e la restante parte ha abbandonato la caserma. Il perimetro antistante alla caserma di Via Cagni è stato comunque transennato nello scorso fine settimana con una doppia fila di protezioni per cercare di mantenere il distanziamento. Nei due lunedì scorsi si erano verificati dei disordini dovuti a numerosi gruppi di stranieri prevalentemente egiziani che per guadagnarsi le prime posizioni della fila si erano mossi velocemente e in modo compatto verso la porta d'accesso creando situazioni insidiose per altre persone regolarmente in coda e in un paio di occasioni alcuni cittadini extracomunitari avevano addirittura tentato di scavalcare il muro della caserma sede del terzo reparto mobile della pulizia di stato.